Un cordiale buongiorno da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo ancora dalla 1 dove a causa di un incidente si registrano attualmente 12 km di coda tra Firenze in Pruneta e il Bivio con la variante del Valico in direzione Bologna. Ripercussioni anche sulla 11 con 3 km di coda tra Prato S e l'allacciamento con la 1 in direzione della 1. Spostiamoci sulla FIPILI dove a causa di lavori si segnalano 2 km di coda tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze, 1 km di coda invece in direzione Livorno. Sul raccordo Sena-Firenze rallentamenti a causa di lavori tra San Donato e Tavarnelle in direzione Firenze. Viabilità di Firenze coda in entrambe le direzioni a causa di lavori in via Bolognese all'altezza di Villa Finali. E anche per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!